D'altà mi ha fatto riflettere sul fatto che nel nostro paese è pieno zeppo di realtà che restano ai margini, che sono inascoltate e credo che a mio avviso le storie di Osso e di Elia si inseriscano e nascono proprio in quel vuoto di comunicazione da parte di chi invece se ne dovrebbe prendere cura, siete d'accordo? Sì, io ho avuto la stessa sensazione leggendo la sceneggiatura, cioè si è spalancato veramente un mondo o qualche cosa, ma veramente esiste un luogo così, veramente c'è una realtà di persone, perché non è, è proprio come dire, uno dice un paesaggio, un ambiente, cioè proprio è un universo, un universo poi andando lì ha ancora di più, non lo conosce, ed è vero che c'è molta pigrizia forse, Michele Vannucci in questo senso è stato bravissimo e sempre lo fa, può essere questo, può essere una periferia, una città, andare a cercare qualche cosa che ancora nessuno ha messo sotto una lente, che nessuno ha avuto voglia di mettere a fuoco, in questo caso proprio addirittura di mettere, di trascinare il nostro campo visivo, perché rispetto al fiume io non sapevo neanche dell'esistenza, cioè sono le cose che studiano a scuola, ma non che ci fosse un mondo intorno, anche economico, commerciale, e soprattutto di grande amore, di grande rispetto per la natura e di considerazione del fiume come fosse una persona realmente viva. Sì, aggiungo soltanto che di solito poi, anche dal punto di vista del racconto, già abbiamo anticipato Gigi, noi adesso raccontiamo un contesto che è sul delta del Po, ma basta andare in Borgata a Roma e spostarsi di pochi chilometri per venire a conoscenza di alcune realtà e dinamiche delle quali nessuno di noi ha assolutamente idea, però c'è una cosa che ha a che fare invece con il racconto cinematografico, almeno per quanto mi riguarda, trovo sono estremamente attratto dalle storie nelle quali i personaggi sono costretti a toccare il fondo, e quando i personaggi sono costretti a toccare il fondo di solito succede perché si racconta un contesto estremamente complicato, dove bisogna fare delle scelte importanti, dove non si è messi nelle condizioni di decidere pienamente per noi stessi, e questo è uno di quei contesti, è un film che ha molto a che fare con il libero arbitrio, con la scelta su quanto la vita decide per noi e viceversa, e sono due personaggi che si muovono parallelamente e vanno poi nelle due direzioni completamente opposte, uno che cerca di normalizzarsi e uno che dalla normalità diventa qualcosa di inaspettato, quindi l'unico cosa che posso fare è ringraziare Michele, come diceva Gigi, perché è matto e perché si va a cercare queste cose ai confini sempre. Un altro elemento molto interessante per me è caratterizzato dai personaggi femminili di questa storia, perché a un certo punto ho avuto l'impressione che anche involontariamente queste due donne segnino il destino dei due personaggi, volevo sapere per voi due confrontare i vostri personaggi con quelli delle due protagoniste femminili del film, se vi ha aiutato, se vi ha messo in difficoltà, se vi ha anche creato dei momenti di tenerezza che secondo me quei due personaggi regalano a questo film e che poi ha anche momenti anche molto duri. Sì, fortissima, a parte sono due attrici straordinarie, Emilia Scarpati e Greta Esposito, che invece è mia sorella, invece Emilia è l'amore, è la donna contesa tra noi due, ma non so se è una cosa che Michele dice o vorrebbe dire, ma all'inizio non era un fratello ma era una sorella, il personaggio di Nani e questo è molto importante che Michele, perché va un po' incontro a quello che dici tu, cioè come la voce, lo sguardo femminile di una donna, di una giovanissima donna, siano importanti per creare un punto di vista più interessante molto spesso, qualcosa più inconsueto, in grado di muovere sentimenti, di muovere grandi emozioni. L'ultimissima cosa, il passato, Elia cerca di fuggire, Osso è travolto, ci sta dentro, soltanto attraversandolo, soltanto facendoci conti possiamo ritrovarci come individui e parlo anche in maniera collettiva. Non ho capito qual era la cosa. Il passato. Il passato. Ma diciamo che ti parlo molto velocemente sia dell'aspetto del personaggio sia di quello che riguarda me invece nella vita, Elia chiude i ponti con il passato, non vuole saperne nulla, tanto che c'è soltanto un primo piano che racconta la sua reazione al sentire che la sua famiglia oramai, Romena, dice che bisogna tornare in Italia, perché lui non ci sarebbe mai voluto tornare, perché voleva dire riavere di nuovo a che fare con tutta una serie di cose che non lo interessavano più, che pensava di non saper gestire, infatti quando torna viene assolutamente travolto da questa donna che è Anna, che lo riconosce. Quindi lo riporta in quei posti, lo fa di nuovo esistere come essere umano di quei posti. Per quanto riguarda me, io ho un rapporto, nel senso io non penso mai al futuro, non mi interessa. Penso molto al passato, anche troppo, cerco il più possibile di stare nel presente. Però diciamo che se ci fosse una linea e io dovessi capire dove mettere lo sguardo sicuramente sarebbe indietro, perché nel passato trovo degli errori fatti, cerco di migliorarmi, mi faccio delle domande. Il futuro mi crea soltanto ansia e quindi non ci penso mai. Grazie mille per il vostro tempo. Grazie mille. Ciao.